ore 10 non so, te l'hai su un botto? ore 10 o me non li vedo? ora c'è una ore 10 gradiii 2, 2, 1 in quest'anno qui si parla se mi sento una botta eh, terrano 8 km sono cieco, va bene, ditemi voi andiamo via, terriamo io non li vedo più, però... sulla montagna, nella collinetta quindi dritto sinistra sono atterrati o perchè vogliono il questo? eeeh ah, ecco lì sono a fianco guarda quanti ribelli stanno loggando vai vai vai, mettici il turbo dai via così ah ok cominciamoli intanto riesci a seminare anche se c'è ultimo ma che cosa cazzo ragazzi guardasemi in mappa guardasemi in mappa ragazzi guardasemi in mappa ragazzi guardasemi in mappa ciao ciao ma dove cazzo ero in seguimento sto parlando 2000 km in aria ragazzi ma dove sei andato? no ah mio dio ma cosa cazzo è successo i wow ho oh è ero in